ciao ragazzi oggi voglio parlarvi delle ultime anticipazioni di uomini e donne del 2 maggio 2024 dopo una pausa il programma torna in onda su canale 5 con una nuova puntata piena di viti e polemiche il protagonista indiscusso di questa puntata è mario cusitore corteggiatore di ida platano le segnalazioni che minano la sua credibilità continuano ad arrivare e tina cipollari non esita a lanciare dure accuse contro di lui in studio ida però continua a credergli quanto durerà questa situazione le anticipazioni rivelano che daniele paudice non sarà al centro dell'attenzione in questa puntata maria de filippi si concentrerà invece su ida e sul trono over lasciando il tronista un po in disparte ma non è finita qui diego e jessica protagonisti del trono over potrebbero essere chiamati al centro dello studio la dama sembra diffidare del cavaliere ma come si evolverà la loro frequentazione nella scorsa puntata abbiamo visto daniele paudice eliminare valeri e dedicare la sua attenzione a gaia e marica presto dovrà fare una scelta importante tra le due corteggiatrici che ne pensate di queste anticipazioni non vedo l'ora di scoprire cosa succederà in questa nuova puntata di uomini e donne stay tuned